ciao a tutti amici di domi digital e ben arrivati sul mio canale oggi sono qui per farvi un video incredibile e darvi una novità una notizia fantastica per tutti gli appassionati mfl finalmente è arrivato l'annuncio il 2d è realtà il 2d le partite simulate in 2d finalmente arriveranno dal 18 settembre praticamente i nostri tornei saranno fatti in 2d 2d che cosa significa significa che per noi allenatori entreremo in uno step successivo faremo un passo in più in questo gioco perché finalmente potremo vedere i nostri giocatori in azione e potremo capire bene le tattiche ogni volta che modifichiamo la tattica a cosa corrisponde nel campo questo video non è soltanto per comunicarvi del lancio ma per darvi una notizia incredibile stanno facendo prima del lancio dal 12 al 17 ci sarà un torneo esclusivo per pochissimi per pochissimi utenti mfl che potranno testare in esclusiva il 2d quindi mfl mi ha dato una possibilità enorme mi ha regalato il pass per partecipare e in più mi ha dato la possibilità di portare con me altri due appartenenti della community della community domi digital come partecipare ve lo spiego dopo la sigla quindi rimanete sintonizzati perché vi spiegherò come funziona il 2d quali sono le novità e come partecipare a questo torneo veramente esclusivo ragazzi allora cosa cosa cambierà allora cambierà veramente tutto il 2d è quello che tutti quanti noi stavamo aspettando è l'evoluzione di questo gioco che ci renderà tutto molto più bello tutto molto più interessante finalmente vedendo i giocatori che si muovono in campo riusciremo a capire le tattiche le nostre tattiche come modificano il gioco della nostra squadra prima di tutto avremo intanto lancio il video di presentazione avremo una vista completa del campo in cui vedremo i 22 giocatori in campo come si muovono possiamo vedere tutti i movimenti dei giocatori e quindi le nostre tattiche come influiscono sul gioco e come vedete qui i giocatori si muovono all'interno del campo si può scegliere la velocità del gioco si può si possono vedere le statistiche ci si può muovere all'interno si può aumentare la velocità addirittura si può scegliere come vedere la partita si può scegliere di vedere solo i momenti salienti possiamo scegliere di vedere la partita per estesa perfino tutta la partita tutti e 90 minuti si può scegliere la velocità e si può vedere addirittura i momenti salienti saltare i momenti salienti un po come attualmente però senza il 2d quindi veramente stiamo parlando di un'evoluzione veramente incredibile del gioco ma adesso vi spiego il torneo come funziona e vi spiego come partecipare al torneo allora praticamente il torneo che è stato chiamato first look face off praticamente saremo soltanto 64 partecipanti questi 64 partecipanti avranno la possibilità di testare appunto il 2d in anteprima e ci saranno delle piccole regole da rispettare saranno a eliminazione diretta quindi ci sarà una sorta di eliminazione tra tutti i giocatori fino ad arrivare alle semifinali e alla finale al primo classificato riceverà una maglietta originale di calcio mentre per il secondo classificato e per tutti i semifinalisti ci saranno dei premi in in mfl nel token mfl del gioco bene adesso vi spiego come come partecipare allora partecipare è semplicissimo all'interno sotto questo video commentate con il vostro id club e inserite una descrizione del vostro club non lo so perché l'avete chiamato così qual è l'obiettivo che si prefigge questo club in che lega partecipa fate la più bella possibile perché il commento qui sotto questo video che riceverà più like praticamente vincerà il posto che uno dei due posti che avranno questa possibilità esclusiva di partecipare al torneo quindi condividete questo video ma datelo ai vostri amici anche in modo tale che possiamo far conoscere mfl più persone possibili e fatevi lasciare dei like più like ricevete e più avete la possibilità di partecipare a questo torneo bene vi ricordo che come vi ho detto all'inizio sono due i posti che in palio che verranno con me in questo torneo il primo appunto commento qui sotto questo video chi riceve più like praticamente verrà verrà estratto poi il secondo posto è dedicato a telegram quindi entrate nel gruppo telegram vi lascio il link qui sotto in descrizione il gruppo telegram ho creato un topic dedicato con scritto torneo mfl lì scrivete il vostro id club e uno di quei commenti farò un'estrazione vedremo lo farò farò un video dove farò l'estrazione quindi andrò ad estrarre uno dei partecipanti e così sceglierò il secondo partecipante tutto questo ragazzi mi raccomando mi raccomando entro entro il 9 settembre il 9 settembre sera farò l'estrazione perché poi il il 12 inizierà il torneo quindi ci sono veramente pochissimi pochissimi giorni per poter partecipare se stai guardando questo video e non hai mai giocato mfl iscriviti il link qui sotto in descrizione e per partecipare e per come funziona eccetera vi invito ad andare sul sulle playlist di mfl dove ci sono vari video in cui spiego il gioco i meccanismi strategie come ottenere mfl e alcuni video su cui analisi di tattiche delle partite eccetera quindi ragazzi io veramente sono veramente contentissimo del 2d perché lo stavamo veramente aspettando dopo il 2d praticamente l'unico step che ci manca per avere veramente un plan con un ulteriore plus su questo gioco e la progressione dei giocatori quindi ci siamo dentro stiamo credendo in questo gioco il gioco va avanti e migliora di giorno in giorno e io sono veramente contento infatti ringrazio ringrazio mfl ringrazio mfl per l'opportunità che mi ha dato e che ha dato alla mia community quindi a voi di poter partecipare a questo torneo insieme a me durante questo torneo faremo qualche live faremo qualche video in cui vedremo effettivamente come funziona il 2d analizzeremo le varie tattiche per vedere le tattiche cosa in come influiscono all'interno dei movimenti dei giocatori eccetera quindi grazie mille a tutti ragazzi avete visto questo video ricordatevi qua sotto il d del club è una descrizione chi prende più like viene con me nel torneo ciao a tutti ragazzi buona giornata da domi digital grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.